Altri finanziamenti per quanto riguarda l'edilizia scolastica, in questo caso dal PNRR e poi a Billabovano, che è un po' la zona ovest di Teramo, si creerà un po' lo scolastico effettivo. Nel vero senso della parola era una visione che avevamo avuto durante il periodo del Covid, facendo fare già una progettazione avanzata dei tecnici terramani che ci ha consentito di poterci candidare a questo finanziamento. Oggi siamo riusciti a ottenere un primo finanziamento per la scuola e l'infanzia. A brevissimo abbiamo delle interlocuzioni con il Ministero, con il MIUR, per far finanziare anche quel famoso scheletro che si trova in aderenza alla scuola e che ci consentirà veramente di realizzare un po' lo scolastico, nel vero senso della parola. È un risultato importante, è una risposta importante alla città che andiamo a dare anche sotto un profilo dell'attenzione e della vicinanza al territorio perché le zone frazionali non vengono dimenticate, non sono state mai dimenticate. La frazione Villavomano avrà questa importantissima struttura che ci consentirà ovviamente di agevolare anche le attività di tipo familiare, non solo familiare, ma per le giovani coppie che consentirà di avere in quella parte del nostro territorio sia una sezione primavera e sia una scuola dell'infanzia. Devo dire che l'amministrazione continua in quell'attività silenziosa, di riprogrammazione, di lavoro silenzioso e che poi però ci consente ovviamente di ottenere risultati importanti come quelli che abbiamo ottenuto. La stessa cosa l'abbiamo fatta con la struttura in micronido che abbiamo sul parco fluviale dove ci siamo candidati per un ampliamento e anche una ristrutturazione dell'edificio esistente che ci consentirà veramente di realizzare anche in quel caso una struttura un nido nel vero senso della parola. Lo veniva definito micronido perché mancavano alcuni locali necessari per poterlo definire nido. Nello stesso tempo con questo finanziamento importante di 1.700.000 euro ci consentirà veramente di avere anche in quella zona così tanto amata dai Tiaramani, un parco fluviale al centro di una zona naturalistica nel vero senso della parola, una struttura così importante che raccoglierà un numero importante di ragazzi. Per definire nido quindi praticamente ci sarà un refettorio, cosa che non c'è adesso? Benissimo, questo progetto ci consentirà di adeguare quell'edificio a quelle che sono le esigenze reali, normative di un vero e proprio nido.